Siamo con Alice Martani, Alice è una fortitudo di nostro cane che spugna il campo del Barison di Vittorio Veneto e si porta a questo punto al terzo posto. Sì, sono molto contenta per il risultato ottenuto oggi e per quelli ottenuti nelle scorse partite, stiamo andando forte e speriamo di continuare così e di stare nella classifica alta. Lo dimostrano anche i risultati consecutivi che state dimostrando di portare avanti e dimostra soprattutto che questa fortitudo mozzercane lontano da San Zeno porta a casa molti punti. Sì, abbiamo fatto molte vittorie fuori casa e non so, giocare in campi diversi da dove siamo abituate ci dà più stimoli, si vede. È stata una battaglia oggi. Sì, una battaglia, ce l'abbiamo messa tutta, poi siamo state anche fortunate e abbiamo avuto la meglio su una buona avversaria. Comunque una partita che si è risolta con gli episodi, due autogolle e poi quel rigore concesso alla vostra squadra, cosa pensi? Penso che in queste partite tutte e due le squadre ce la mettano tutte, infatti l'abbiamo dimostrato, è stata appunto una battaglia e l'abbiamo vinta noi per oggi. Tre punti al vittorio Veneto all'andata, tre punti al fortitudo mozzercane al ritorno, come si chiuderà questo campionato secondo te? Ancora, secondo me, è molto aperto. Il ritorno sarà tosto e vedremo chi avrà la meglio alla fine. Allora, mister Bragantini, una battaglia incredibile oggi per questo risultato che il fortitudo mozzercane ha portato a casa comunque. Sì, è stata una partita secondo me molto equilibrata, dove tutte e due le squadre hanno messo in campo quello che dovevano mettere in campo in una partita tra terza contro quarta, cioè tra due squadre che comunque per conto mio se la giocheranno fino alla fine. Adesso abbiamo iniziato il ritorno, quindi c'è una vita da giocare. Diciamo che l'andata, il vittorio Veneto è stato bravo da noi, un pochettino un po' di più bravo e si è stato un attimino magari forse un po' più di spinta nel secondo tempo da parte nostra. Abbiamo preso coraggio e abbiamo alzato un po' di più il baricentro. Forse è stato lì un po' la chiave della partita, ma due squadre che si sono giocate a viso a parto, quindi una bella partita. Sì, no, di questo sicuramente non si può dire nulla di sbagliato, nel senso che la partita è stata bellissima sugli spalti, si è goduta veramente un bel calcio, questo sicuro? Diciamo che questo deve essere un po' uno spot per il calcio femminile, perché secondo me questa partita vale il biglietto, nel senso che sarebbe proprio da farla vedere come fanno vedere magari i pezzettini della serie D, cioè nel senso che noi siamo in serie B, non siamo inferiori a livello di calcio a nessuno. Comunque una cosa c'è da dire, l'affruttituto trova nelle partite fuori casa, si adatta maggiormente e di fatti ha trovato molti punti fuori casa. Eh sì, penso che se guardiamo sulle partite esterne siamo la squadra che ne ha fatti di più. Speriamo che vada avanti questo trend, magari forse nel nostro campo per quanto sia appunto dove ci alleniamo noi ci può un attimino limitare, o forse magari perché le squadre si aspettano che fuori casa la squadra ospite sia un po' più chiusa, invece noi abbiamo sempre l'arma bianca e andiamo a spingere sempre sull'acceleratore, che è un po' le caratteristiche della squadra che andranno delle nostre ragazze, bisogna andare avanti e correre in avanti. Pensi che questo sia il spartiacque verso la salvezza, tra virgolette? Ma ci sono ancora 14 partite, c'è un'eternità, noi abbiamo fatto un punto in meno rispetto a Vittorio Veneto nell'andata, quindi diciamo che sono tre punti. Sono tre punti, il nostro obiettivo è fare più punti dell'andata per appunto salvarsi, quindi diciamo che a oggi partiamo da un più tre rispetto a quello che era il profilo dell'andata. Guardando un attimo le altre squadre, il Pro San Bonifaccio ha vinto 2-1 solo con il Vicenza, era un derby anche questo, e il Castellecchio ha vinto 1-0 con il San Marino, quindi non c'è nulla di scontato secondo me? Assolutamente no, cioè secondo me bisognerà battagliare contro tutte, non ci sono squadre perché comunque il calcio è bello perché non è una materia certa e tutte le squadre, anche chi magari adesso non ha più niente da dire, comunque appunto non avendo nulla da perdere verrà a giocare contro qualsiasi squadra, soprattutto le prime in classifica per cercare di portare a casa la gloria della partita. Quindi sarà un campionato duro, intenso e che secondo me si deciderà nelle ultime due o tre giornate, non prima. Mister Toffolo allora cosa dire di questa battaglia oggi che si è vista in campo e sinceramente una partita da spettacolo secondo me? Allora intanto prima di tutto voglio fare i complimenti alle mie ragazze perché sono state incredibili fino al 95esimo. E complimenti alle squadre avversarie perché ha giocato veramente in maniera elegante, propositiva, bella da vedere è stata una battaglia, una battaglia agonistica che sapevano loro che venivano a affrontare il Vittorio Avento in casa e lo sapevamo anche noi, quindi tutte e due le squadre erano pronte a questo e è stata da fuori penso una gran bella partita. Se non ci fossero stati quegli episodi magari non cambiava completamente la partita però due autogole e poi il rigore hanno detecretato questo risultato. Cosa è mancato secondo te mister a questo Vittorio Avento oggi? Se è mancato qualcosa, magari un po' di fortuna in più? Sì, come giustamente detto te sono stati tre episodi a decidere la partita sinceramente sul primo gol del Mozze Cane e le ragazze che erano lì mi hanno detto che la palla non era dentro quindi io credo a loro più che a quello che hanno fischiato gli arbitri. Poi il rigore ha calciato sulla sua Tomasella da due metri quindi non so se per proteggersi ha preso la spalla, ha preso il viso o qualcos'altro, ha decretato rigore dopo ha segnato, abbiamo provato gli ultimi dieci minuti all'arrembaggio però purtroppo non ci siamo riusciti. Ha visto un attimo secondo te l'ingresso un po' tardivo magari di Stefanello che poteva dare una mano in più a centrocampo secondo noi? Questa è un'opinione ovviamente. Sì, l'importante era non prendere eventualmente il terzo gol a cinque minuti dalla fine quindi essere troppo sbilanciate non era neanche la cosa che volevo. Gli ultimi cinque minuti si poteva usare di più e quindi ho buttato dentro la Vanessa e i cinque minuti prima che l'Ilaria. Ora mancano quattordici partite, il campionato è lungo ovviamente. come potrai affrontarle queste dopo anche secondo me aver imparato oggi che questo vittorio ovviamente non molla e le ragazze lo sanno benissimo questo. Sapevamo prima che c'erano 15 finali, adesso ce ne sono 14, punti ce ne sono a non finire ma se continuiamo così con prestazioni del genere non si dorme solo che sono tranquilli. Allora Greta, una battaglia oggi incredibile a centrocampo in tutti i reparti ovviamente ha vinto il Mosecane, comunque un vittorio veneto che non molla e si è visto e se continuerà con questo spirito sicuramente potrà far molto bene in futuro sicuramente. Sì, oggi era una guerra addirittura, non solo una battaglia loro sono una gran bella squadra, sono forti, organizzate, molto fisiche infatti per conto mio ne ho prese tante, devo dire la verità e noi abbiamo fatto bene, noi abbiamo fatto il nostro e anche di più secondo me abbiamo fatto vedere quello che valiamo e purtroppo non è andata a buon fine diciamo per colpa nostra, per colpa dell'avversario, per colpa di chissà chi magari della Terna, non so, non mi sbilancio ma noi abbiamo fatto vedere quello che sappiamo fare e questo è l'importante. Comunque è una partita che si è decisa sugli episodi. Sì, non ci sono state chiarissime occasioni da gol, quindi i tre gol che ci sono stati sono stati proprio occasioni così spuntate e andate dentro. Una rettifica per quanto riguarda i risultati, il Castelvecchio alla fine ha pareggiato 1-1 con il San Marino, non come avevamo detto in precedenza, comunque si dimostra che sarà un campionato tosto fino alla fine perché il San Bonifacio ha vinto solo 2-1, il Castelvecchio come dicevamo 1-1 e il Pordenone alla fine ha pareggiato anche loro 2-2 con l'Unterrandame. Sì, è un campionato molto combattuto, si può dire questo perché siamo tutte vicine, abbiamo tutte la differenza di 1-2 punti da quella sopra e da quella sotto e questo si sapeva, si era già visto dall'andata e squadre molto organizzate, molto toste, noi cercheremo di dare il massimo. Purtroppo oggi ci stava la vittoria e sia per la fiducia che per i punti in classifica faremo meglio sicuramente la prossima domenica, domenica ci riscattiamo. E sarà la trasferta a San Marino. Esatto, San Marino che ci sarà. Sarà un dente avvelenato con il risultato dell'andata. Assolutamente, quindi daremo ancora di più di quello che abbiamo dato oggi.